E tu, e noi, e lei, a noi, o lei, so che lei, oh no, le mani Pensiero stupendo, ciao, benvenuto in questo nuovo video, io mi chiamo Carlo e andiamo a vedere questo Pensiero stupendo, il brano originale è di Patti Pravo questa però è una versione dei Mambassa, gruppo storico italiano che mi piace molto come versione perché va a mettere delle cose molto carine per il basso allora, innanzitutto abbiamo soltanto praticamente due giri quello dell'introduzione che poi è anche quello del ritornello in cui va a alternare re maggiore e la maggiore e poi invece la parte più funk delle strofe in cui dopo andiamo a vedere gli accordi allora, innanzitutto l'introduzione, la cosa carina, di base vai a fare degli ottavi però quando passa al La vai a anticipare di un ottavo il passaggio in questo modo qua, io prendo questo Re, La questo Re e La, tasto 5 vedi che arriva prima il La e questo è solo una piccola cosa che però dà un bel tiro al pezzo nel ritornello va poi anche a riprenderlo ma non lo fa sempre a volte terrà Re la dritti e a volte invece va andrà a anticipare cosa bisogna seguire come al solito la batteria quindi il basso deve sempre fondersi con la batteria nelle strofe invece andiamo a fare Re, Mi, Do diesis minore, Fa diesis minore in accompagnamento funk allora, innanzitutto andiamo a vedere le note dove andiamo a prenderle il Re qua al tasto 5 corda La il Mi al tasto 7 poi ci spostiamo sul Do diesis io qua ti consiglio di spostare e andare con l'anulare sul Do diesis, tasto 4 perché? Perché la nota, l'accordo dopo il Fa diesis quindi se io vado già con l'anulare poi ho già la mano pronta per prendere il Fa diesis e quindi è un pochettino più comodo che andare con l'indice e poi doversi spostare all'ultimo rischiando poi magari di mancarla si potrebbe anche prendere al posto di questo Fa diesis questo però essendo più acuto, più piccolo rende un pochettino meno infatti il bassista dei Manbassa va a suonare il Fa diesis basso andiamo a sentire il ritmo che poi è la cosa più interessante e divertente anche qua segui la cassa, la batteria ta 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 anche con una ghost note ok? prima che arrivi l'ultimo Re proviamo a andarlo a suonare insieme non è difficilissimo, dai ecco quest'ultimo Mi lo utilizza quindi va a finire a metà giro va a finire su un Mi lungo che porta poi sul ritornello pensiero stupendo dove va a alternare il Re e il La a me viene anche da accompagnarlo a volte mettendo una seconda ghost note anche in anticipo alla seconda note te la faccio sentire perché secondo me è carina però chiaramente nell'originale non c'è quindi io te la propongo come una mia cosa che a me piace però sentiti libero e lo vado a applicare su tutti i giri andiamo a vedere velocemente anche una parte del ritornello ti dicevo prima che il Re là il primo qua nel ritornello vai a vederlo fa dritto mentre poi gli altri li anticipa proviamo a suonarlo insieme vedrai che lo becchia al volo se segui la batteria è lungo pensiero stupendo vedi questo è dritto qua anticipa e poi ritorna sulla strofa ritorna sulla strofa e alterna la canzone è abbastanza lunga però principalmente va a alternare questi due giri spero di esserti stato utile di averti fatto conoscere magari una versione che non conoscevi e soprattutto di farti passare un po' di tempo con questo bellissimo strumento e con la musica che secondo me è proprio la cosa migliore che c'è la passione per la musica è veramente è una passione bella poi certo chiaro bisogna averla però se ti piace se ti piace ascoltare ok approfondisci questa passione ci vediamo alla prossima ciao a presto ciao ciao ciao